Su Alitalia, dopo un anno e mezzo, oggi il ministro De Micheli ci annuncia che Ferrovia dello Stato non c'entrerà nulla e quindi anche qua non si capisce assolutamente un paese turistico con una compagnia di bandiera volante a caso che fine possa fare. In questo momento è in corso l'audizione del pregevole ministro Azzolina in Senato scopriamo dai sindacati che al 1 settembre ci sono 85.000 cattedre scoperte quindi lo denuncia la CISL o sono tutti sovranisti e allarmisti anche gli amici della CISL oppure abbiamo a che fare con un altro ministro incompetente. Ovviamente se le mettiamo tutte e due, la De Micheli Azzolina, sul monopattino elettrico destinazione infinito facciamo un servizio utile alla Repubblica.